Il PD che vorrei, continua il nostro viaggio verso le primarie dell'8 dicembre, oggi nostro ospite l'onorevole Gianni Cuperlo, ben arrivato. Grazie, buongiorno. Grazie di essere con noi, sempre con noi Giovanni Valentini, editorialista della Repubblica, il nostro Massimo Leoni, lui sa che non si può spostare da qui. La nostra domanda Twitter, Renzi, Cuperlo, Civati, Pittella, chi vedreste come segretario del Partito Democratico? Scriveteci, tra poco cominciamo a darvi anche le risposte, prima come prassi leggiamo una sorta di brevissima carta d'identità del candidato in questione. Gianni Cuperlo è nato a Trieste il 3 settembre del 1961, ha una laurea al Dams di Bologna, è tra i fondatori di Sinistra Giovanile, parlamentare dal 2006 nell'Ulivo, nel Partito Democratico sostenitore del ricambio generazionale. È indicato come il successore protempore di Bersani e considera Joe Lansdale, scrittore americano, che è autore di romanzi e testi per televisione, fumetti e fantascienza, un genio e il più grande scrittore contemporaneo, uno che è dotato anche di un notevole humor all'inglese, perché quando poco fa Giovanni Valentini gli diceva, beh, allora, com'è stata questa avventura? Ha citato le Dolomiti in una forma un po' singolare. Ma ho detto una cosa un po' sciocca, ho detto che, no, è una bellissima avventura, che quando è iniziata sembrava un po' andare sulle Dolomiti con le infradito. Che non è proprio la calzatura ideale. No, una metà del sentiero tendenzialmente comincia a capire di avere sbagliato le calzature. Ha cambiato scarpe ora? Sì, ho cambiato scarpe, ma soprattutto è una comitiva che si è, come dire, aggregata e siamo di più e salire in comitiva rende anche più agevole la fatica. Tutti con le infradito? No, no, tutti attrezzati. Ma insomma, a parte le battute, è una bella esperienza. Io lo dico sempre quando mi capita in queste settimane, in questi mesi, di incontrare gli iscritti, gli elettori del PD, non era abituato e non avevo mai immaginato né coltivato questa ambizione. Poi per una serie di ragioni è accaduto ed è una grandissima esperienza dal punto di vista umano, anche prima ancora che politico. Stiamo vedendo anche il suo sito. Massimo Leoni. Cupero, le faccio subito una domanda cattiva, però non solo per lei, anche per Renzi. Allora, che Cozzarone ha incassato in quattro giorni 18 milioni di euro col suo film? Ci vuole lui per battere il sindaco di Firenze? Non ho proprio, ho sentito male... Che Cozzarone, lo conosce il copico? Ah, no, no, non avevo conto. Ha incassato in quattro giorni 18 milioni di euro col suo film. Allora, le chiedo, ci vuole Zarone per battere il sindaco di Firenze? No, Che Cozzarone è un artista abbastanza geniale. Io ho visto i suoi film precedenti, li ho trovati molto divertenti, anche in questa sua comicità abbastanza brutale dal punto di vista. Ho letto anch'io la notizia ed è una buonissima notizia per il cinema italiano. Pare che sia il titolo che potrà risollevare le sorti di un'annata non particolarmente felice. Benvenga quindi il successo di Zalone. No, la competizione dentro il PD dovrebbe essere una cosa seria, che secondo me stiamo affrontando in un modo serio, riguarda le piattaforme, le proposte, i valori. E soprattutto la natura e il profilo di questo partito. Io ho messo un po' abusando perché, insomma, è stata una scelta un po' in apertura della nostra mozione una citazione di Norberto Bobbio che negli anni 90, commentando le vicende non particolarmente brillanti della sinistra italiana, le sue difficoltà, i suoi dubbi, le sue incertezze, chiusava il tutto dicendo discutono del loro destino senza discutere della loro natura e non capiscono che soltanto discutendo della loro natura avranno chiaro anche il loro destino. E secondo me questo è un congresso che deve discutere della natura del PD, del futuro del Paese dopo questa crisi terribile, ma soprattutto della natura del PD e del modello di partito che vogliamo costruire. Valentini? Beh, molto suggestiva questa citazione dell'onorevole Cupero. Secondo me quando lui ha usato l'allegoria della scalata delle Dolomiti ha ammesso freudianamente che questa è una corsa in salita e tutti sanno, diciamo non è un mistero, che il favorito almeno sulla carta finora di queste elezioni è Matteo Renzi. C'è in corso, lo dicevamo prima, era collegato con noi il vice segretario della Lombardia, Alfieri mi pare che si chiami. Segretario. Segretario, il segretario della Lombardia, parlavamo di queste polemiche sul tesseramento, più o meno facile. Lei, tu, forse ci possiamo dare del turismo che ci conosciamo da troppo tempo. Tu hai proposto, io personalmente l'ho molto apprezzato, di fare uno stop a questo tesseramento, perché nonostante che ci siano situazioni abbastanza isolate, però, diciamo la verità, il PD con queste polemiche non sta facendo una bella figura. Renzi, il tuo principale avversario, ha invece proposto di eliminare la convenzione, quella nella quale, diciamo, gli iscritti dovrebbero pronunciarsi, per andare direttamente alle primarie, come sembrerebbe più logico. Tu non credi che questa sarebbe una maniera per, diciamo, snellire, semplificare e rendere più trasparente questa competizione fra di voi? No, sinceramente no, guarda. Parto dalla prima questione, i problemi che abbiamo sul tesseramento. Io ho detto con, spero, con chiarezza, che sono molto preoccupato, anzi, ho usato un termine anche più forte, sono letteralmente angosciato, non perché sia un fenomeno a macchia estesa, anche a me viene detto, viene confermato, che si tratta di situazioni abbastanza circoscritte, ma questo non rende meno allarmante quello che sta accadendo, perché è qualcosa che ha a che fare con una trasformazione davvero del modo di essere di un partito politico che io credo debba garantire prima di tutto la sua immagine in termini di credibilità e di prestigio all'esterno. Diciamo anche di trasparenza. Assolutamente, di trasparenza. Io non ho fatto, lo rivendico, non ho fatto mezza battuta polemica verso nessuno degli altri candidati, perché ritengo che sia un problema che riguarda tutti noi. Adesso vengo alla convenzione e la proposta che io avevo fatto era non di comprimere la partecipazione, avevo detto che siccome tra il 7 e il 17 di novembre, cioè tra pochi giorni, inizia la seconda fase di questo congresso, che è un po' bizantino nella procedura, ma così lo spieghiamo anche a chi ci ascolta, c'è un secondo passaggio, i circoli tornano a riunirsi e votano, discutono, e poi votano le piattaforme e le candidature alla guida nazionale del PD. Le prime tre persone, le prime tre candidature, le prime tre piattaforme che raccolgono più voti vanno ad una convenzione il 24 novembre, dove in un'assemblea a Roma espongono le linee di quel progetto, e a quel punto ci sono due settimane di una campagna che si conclude col voto aperto a tutti delle primarie dell'8 dicembre. No, perché non mi convince la proposta del sindaco di Firenze? Perché in questo momento vorrebbe dire, sottrarre agli iscritti al PD, che sono centinaia di migliaia, hanno votato fino ad oggi oltre 200 mila iscritti, ce ne saranno 300-350 mila alla fine, che torneranno a votare per la scelta del segretario nazionale. Toglieremmo a quelle persone, che poi sono l'anima di questo partito, io lo so che a volte si fa l'ironia sugli apparati, gli apparati non esistono più, quando dico sono l'anima, sono quelli che poi vanno materialmente a montare i gazebo, a tenere in piedi le sezioni, ad aprire i circoli, a garantire le feste. Però ti posso fare una domanda brutale, così molto semplificata. Se la Convenzione dà un certo esito, se alla Convenzione diciamo vince, fra virgolette, per esempio Cuperlo, e alle primarie vince, per esempio Renzi, che cosa succede nel partito? Ma succede innanzitutto che si rispetterà l'esito delle primarie, però posso dire una cosa Giovanni, perché tu forse lo ricorderai, perché segui le nostre vicende con una certa passione, nel precedente congresso ci fu una discussione simile, anche allora ci fu prima il passaggio tra gli iscritti, poi il passaggio all'esterno, e si diceva, ma che cosa potrebbe accadere se gli elettori dessero un giudizio diverso da quello degli iscritti? Poi andammo a fare l'uno e l'altro passaggio, e il voto degli elettori di fatto confermò quasi al decimale le percentuali uscite dagli iscritti. Può anche non succedere, ma io sono convinto che gli iscritti al partito democratico non sono una specie antropologica diversa dal cittadino medio e l'elettore medio del PD e del centro-sinistra, quindi ho grande fiducia in questo. In ogni caso, rispondo, rispetteremo l'esito delle primarie, ma perché togliere agli iscritti al partito democratico il diritto di dire la loro e di decidere e di contribuire alla decisione sulla scelta dell'avvenire di questo partito? C'è un valore degli iscrizioni ad un partito oppure la riduciamo soltanto a un puro fatto formale che non conta nulla? Allora, sentiamo cosa dicono i telespettatori attraverso Twitter, i nostri abbonati, diamo subito voce a chi fra Renzi, Cooper, Locivati e Pittella dice io vedrei meglio come segretario del Partito Democratico, vediamo le risposte, appena sono pronte, prevedo Renzi segretario del Partito Democratico, ma il problema è che non si sa ancora cosa sia il Partito Democratico. E ancora, io sono per Civati, Renzi aria fritta, mentre Cuperlo è imposto dal partito contro Renzi. Ancora, chi vorrei come segretario del PD? Sicuramente Cuperlo, come tale giriamo la notizia, Civati, almeno cambiamo davvero e non per slogan. Vediamo se ce n'è ancora uno, Cuperlo, perché servono idee e non teatro. Serve anche Twitter, serve anche il modo di comunicare, onorevole. Sì, sì, intanto apprezzo molto la par condicio di questi messaggi, anche se bisogna spezzare una lancia a favore del povero Pittella. Tu non sei stato mai però un grande difensore della par condicio. In che senso? Ebbè, c'è... Ah, no, 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 io ho scritto anche un libricino in cui polemizzai su quella... No, non me lo porti fuori strada. No, no, no. Ma... No, no, io penso che siano strumenti assolutamente preziosi. Lei lo uso Twitter? Sì, sì, lo uso, oltretutto, lo uso ufficialmente. Poi c'è anche un simpaticissimo fake, si chiama, mi aiuti, che però all'inizio si firmava col mio cognome, quindi c'era anche delle ambiguità nel messaggio. Adesso uso una capa, quindi è più distinguibile. Molto divertente e molto spiritoso. Sono strumenti secondo me essenziali anche perché non solo favoriscono una partecipazione, una circolazione delle informazioni, però se mi fa aggiungere solo questo, la rete da questo punto di vista non è soltanto uno strumento in più, è davvero una modalità nuova con la quale si crea il sapere, la trasmissione delle competenze, delle conoscenze nella politica e io sono convinto che i partiti per come li abbiamo conosciuti in generale non potranno più essere quelli di prima. Ma questi strumenti saranno, adesso vedo un simbolo d'antanche e certamente non è quello del nostro sito, ma questi strumenti contribuiscono a creare una nuova forma della cittadinanza e della qualità della democrazia oltre che della partecipazione, quindi grande rispetto anche se poi sono convinto, lo faccio in questi mesi con una passione crescente che poi devi andare in mezzo al tuo popolo, alla tua gente, guardarli negli occhi, parlare con loro. Stamane siamo stati davanti all'Inps, su una cassetta di frutta rovesciata e con un megafono, non lo facevo dai tempi del ginnasio, con un gruppo di esodati e di pensionati a dire le proposte che vogliamo mettere al centro delle modifiche della legge di stabilità. Alla fine devi andare davanti agli esodati, non bastano i fake, i twitter, i facebook, devi guardarli negli occhi e c'erano stamane quelle persone che ti dicono che cosa vivono e qual è la ferita alla loro dignità. E questo comunque è un elemento che alla politica non può venire nemmeno. Sulla parola dignità torniamo, perché lei la sottolinea la città più volte. Massimo Leoni. Le primarie ringiovaniscono, Cuperlo. No, 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 bisogna essere consapevoli dell'età. In questo paese o si vince o si è di sinistra, è così? Spero proprio di no, io ho in mente una sinistra che vince. Ho in mente una sinistra che vince... Quindi siete due già, eh? Beh, beh, spero che siamo molto più di due. Io ho in mente una sinistra che vince in un paese che cambia, e che cambia radicalmente. E sono convinto, per le ragioni che mi hanno portato molti anni fa a scegliere questa parte del campo, i valori, i principi della sinistra, che questo paese oggi non può cambiare veramente radicalmente senza la sinistra. E lo dico perché... La vediamo stamattina col megafono sulla cassetta della frutta. Ecco sì, è stato un momento abbastanza imprevisto. No, e sono convinto di questo perché, non voglio rubarvi tempo, poi avete parlato tantissimo su questa rete, però noi siamo alla coda, speriamo alla coda, di una crisi che non è una crisi qualunque. Sul tuo giornale l'altra settimana un bravissimo economista ci ha spiegato, scifra la mano, che è la crisi dall'impatto più drammatico dell'intera storia unitaria di questo paese. Abbiamo perso nove punti di pil in questi sei anni, un punto di pil sono 16 miliardi di euro. La crisi degli anni 30 del 900 costò 5 punti di pil all'Italia e il triennio 15-18, la prima guerra mondiale, non c'eravamo, costò 8,8 punti di pil. Questo paese ha vissuto in questi anni un passaggio storico e uno spartiacque, non saremo più quelli di prima. Dobbiamo avere il coraggio di immaginare l'Italia con un radicale cambiamento di assetto, di strutture, di poteri, colpire le rendite, le corporazioni, pensare a un nuovo modello economico di sviluppo, di crescita, di cittadinanza, di qualità della democrazia. E senza la sinistra, una sinistra ripensata, rinnovata, proiettata nel futuro, quest'operazione non si fa. Ma a proposito di cambiamento, Cooper lo cambierebbe il PD più di Renzi? Ma io non ho capito bene, ho fatto una battuta qualche settimana fa e non voglio essere maleducato, ma la battuta era riferita allo scambio di riflessioni tra due grandi registi italiani. Il più anziano una volta disse del più giovane, ma io apprezzo il suo cinema, però non vedo mai il film, perché c'è sempre lui in mezzo, ed era abbastanza polemica. Io non ho capito benissimo come vuole cambiare Renzi il PD, perché c'è molto lui, ed è una personalità forte, di peso, molto popolare, con grande consenso, che io rispetto e verso il quale ho un sincero sentimento di amicizia. Io penso a come vorrei cambiarlo io, vorremmo cambiarlo noi questo partito, ed è la ragione sulla quale, ed è il tema su cui mi sto concentrando di più. Ancora Twitter, poi mi autoprenoto per una domanda all'onorevole Cuperlo, vediamo ancora come rispondete, diciamo, su chi possa essere per voi l'ideale. Segretario, se si potesse, li vorrei Bersani, ma dato che non è candidato, ho scelto Cuperlo, altro compagno serio e leale. Vede, compagno, che salta fuori. Certamente Civati, Renzi è un comico della DC, Cuperlo è figlio del non-sense D'Alemiano Pittella Ma. Scelgo Cuperlo, mi piace la sua idea di partito, e il suo racconto dell'Italia. Sento onorevole, in questo racconto dell'Italia resterà la pagina, incomprensibile per molti, forse comprensibilissima dal punto di vista politico, di quei 101 che hanno detto votiamo, votiamo tutti insieme, poi andando per votare Prodi, sono usciti fuori come soggetti non votanti l'uomo di cui si era detto di votare. Lei non faceva parte di questi 101? No. Ne conosce qualcuno? No, quella è la pagina più buia della storia del PD. Io credo che noi abbiamo la responsabilità di avere ragionato poco su quello che è accaduto in quei mesi. Con un passo indietro vorrei dire abbiamo anche ragionato poco della sconfitta elettorale di un mese e mezzo prima, di due mesi prima, perché vede il 25 di febbraio noi abbiamo di fatto non vinto le elezioni come abbiamo detto, le abbiamo persi, avevamo messo in campo un'offerta verso il Paese che non è stata raccolta da una maggioranza degli elettori. Ma al di là dell'esito in sé, noi abbiamo perduto, parlo solo del PD, oltre 3 milioni di voti rispetto ai voti raccolti nel 2008. Certo, la destra ne ha persi 6 di milioni di voti e Grillo ne ha raccolti 8 milioni e mezzo alla prima presentazione, almeno alle elezioni politiche. È stato un terremoto elettorale, il più, come dire, il terremoto elettorale più di impatto nella storia repubblicana. Abbiamo archiviato quel risultato troppo presto e forse, ecco perché mi sono permesso la digressione, aver archiviato quel risultato troppo presto, ha prodotto un partito che è stato fragile anche nel modo di affrontare i passaggi successivi. E in quel passaggio che lei ha ricordato, che è una ferita aperta nella nostra esperienza, nella nostra cultura, noi non siamo stati all'altezza della responsabilità che dovevamo esercitare. Io penso che quello sia un peso e che la rifondazione del Partito Democratico, lo ripensamento anche abbastanza corcioso del suo modo di essere, all'inizio dicevo della sua natura, ha a che fare anche molto con il senso della responsabilità di una classe dirigente e di un gruppo dirigente. Quelli erano grandi elettori del capo dello Stato. Se non c'è responsabilità soggettiva e collettiva in quel momento, allora vuol dire che il partito, almeno l'idea di partito che avevamo coltivato, ancora non c'è. Io voglio fare due rapidissime domande telegrafiche. La prima, tutti sanno, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa quando tu, diciamo, eri il braccio destro di Massimo D'Alema, il suo portavoce. Sinistro. Massimo Sinistro, ok. No, portavoce mai. Quello che preferisci. Posto che D'Alema ha definito una volta nel suo proverbiale cinismo il PD, come un amalgama mal riuscito, tu che stai giustamente ponendo il problema dell'identità e della natura di questo partito, ti riconosci in quella battuta, in quella definizione o no? E seconda domanda, finisco, seconda domanda. Io apprezzai molto durante la campagna per le primarie prima e poi durante la campagna elettorale il fatto che Renzi avesse detto, ovviamente prima dell'esito delle primarie, qualunque sarà il risultato io lavorerò a fianco di Bersani. Non so se poi è stato effettivamente così o meno, però ti chiedo, tu oggi, questa è la seconda domanda, diresti la stessa cosa nei confronti di Renzi? Sulla battuta sull'amalgama fino in fondo no, non la condivido. Per esempio, credo che l'amalgama sia molto più avanzato nella nostra base, tra i nostri iscritti, i nostri militanti, che nei gruppi dirigenti. Vai in un circolo del Partito Democratico, valla a sentire la discussione. Stai lì per un paio d'ore e alla fine, quando ne esci, magari non sarai d'accordo con tutto quello che hai sentito, ma è molto difficile riuscire a dire quello da dove veniva o da dove veniva quell'altro. E oramai quasi il 60%, forse più, degli iscritti a questo partito non ha nessuna esperienza precedente alle spalle, sono cosiddetti nativi del PD. Noi abbiamo dato vita a una confluenza di culture e tradizioni diverse, però secondo me abbiamo avuto un limite, tutti l'abbiamo avuto, non l'ho input ad una parte soltanto, e cioè non abbiamo avuto la forza di chiarire fino in fondo, non soltanto qual era il nostro nuovo nome, Partito Democratico con bellissimo nome, e quindi chi eravamo noi, ma anche per chi eravamo noi. Quelli sono le forze, i soggetti della società che vuoi tutelare, rappresentare, emancipare, questo è un aspetto fondamentale del dibattito che stiamo facendo. Sì, io direi la stessa cosa con lo stesso spirito, io ho una sconfinata fiducia, intanto io voglio bene al mio partito, sarà un vizio che ho preso da giovane o da piccolo, ma l'ho fatto sempre, voglio bene al mio partito, voglio il bene, voglio il successo del mio partito, voglio che sia un partito forte, solido, unito, e allora siccome ho una sconfinata fiducia nella maturità e anche nella saggezza del popolo democratico, degli elettori del PD che andranno a votare nei circoli prima e poi alle primarie, io sono convinto che compiranno una scelta in piena coscienza, libertà e saggezza e quella scelta sarà la scelta alla quale tutti ci atterremo. Domanda conclusiva al nostro Massimo Leoni, non prima di aver letto le parole del Ministro della Difesa Mario Mauro, lavoriamo con forza e determinazione affinché sia raggiunta l'unica soluzione possibile nella vicenda dei due Marò trattenuti in India, il ritorno a casa con onore. A parlare il Ministro Mauro dopo il collegamento in videoconferenza appunto con Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Massimo Leoni. Cuperlo, governo, sinistra, legge di stabilità, risorse ce ne sono poche, uno dei fari di quella che noi chiamavamo la sinistra è il concetto che la ridistribuzione del reddito avesse diciamo una valenza di per sé e anche una valenza per lo sviluppo, non c'era un po' troppo poca in quella che sentiamo e vediamo, non è questa una sconfitta del PD che pure appoggia il governo? Ma vede, la legge di stabilità è un tentativo serio che per la prima volta cerca di non togliere ma di restituire qualcosa e è ancora poco, è del tutto insufficiente e in Parlamento bisognerà lavorare per migliorarla, io non c'è molto tempo quindi si possono indicare solo i titoli immagino, in che direzione migliorarla? Intanto fissando dei paletti, piantandoli ben a fondo nel terreno, ho citato le pensioni, stamane eravamo all'Inps, noi dobbiamo garantire l'indicizzazione delle pensioni fino a sei volte il minimo nella logica che avevamo ottenuto l'anno scorso perché parliamo di persone che hanno già pagato un prezzo pesante per questa crisi, esodati, chiudiamola quella parentesi, quella pagina drammatica, non puoi lasciare per anni decine di migliaia di persone, di famiglie senza reddito, senza ammortizzatore, senza segno previdenziale e poi ancora cerchiamo di mettere delle risorse aggiuntive nel fondo per le politiche sociali, nel fondo per la non autosufficienza, c'è un pezzo di questo paese che non è che fa fatica, semplicemente non ce la fa più e noi dobbiamo farci carico di questo, sui temi dello sviluppo e del lavoro telegraficamente, cuneo, le risorse sono scarse, concentriamole in modo selettivo sui redditi medio-bassi, secondo me fino a 20, 22, 25 mila euro e poi ho apprezzato molto un'analisi anche molto dura di Tito Boeri pubblicata l'altro giorno su Repubblica, per il 2014 il governo ha fissato il rapporto deficit-pil al 2,5%, le ragioni sono quelle note, non c'è tempo di dirlo, dobbiamo rientrare da un debito onerosissimo a partire dal 2016, alziamolo quel deficit, però al 2,7% sono 3 miliardi aggiuntivi per un piano straordinario di opere immediatamente cantierabili in settori vitali per il paese, sicurezza suolo e territorio, edilizia scolastica, diamo un po' di respiro, di domanda a un paese che sta letteralmente soffocando. Buonanile Gianni Cuperlo, grazie, è candidato alle primarie del PD, Giovanni Valentini, il nostro Massimo Leoni, tutti voi domani alle 15.03 puntuali come sempre con Sky TG24 pomeriggio, grazie. Questa è Sky TG24 Accademia.